E' ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale San Francesco di Nuoro. Giovanni Cabua, ex vice sindaco di Lula, negli anni 90 ha raggiunto da due fucilate nel tardo pomeriggio. Un agguato ha messo a segno nei pressi della sua azienda, un maneggio situato in località Teneru-Nurai, a pochi chilometri dal paese. L'uomo di 69 anni è stato immediatamente soccorso da un'equipe del 118, ma data la gravità delle ferite si è deciso di allertare l'elicottero dei vigili del fuoco. Il velivolo, partito da Alghero dopo aver caricato Cabua, lo ha trasportato nell'ospedale di Nuoro, dove è stato sottoposto alle cure del caso. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato raggiunto da due fucilate mentre lavorava all'interno della sua azienda. Sul posto si sono arrecati i carabinieri della locale stazione, della compagna di Bitti e del comando provinciale di Nuoro. I militari hanno avviato le indagini per risalire all'autore dell'agguato, ma anche per cercare di individuare il movente. Nel settembre 2011 il maneggio del figlio di Giovanni Cabua, Pietro, aveva subito un attentato. Quattro cavalli erano stati ammazzati. Sei mesi prima invece un altro cavallo di proprietà del giovane era stato strangolato. Episodi che ora sono al vaglio dalle forze dell'ordine.